Sì, dopo la bava di lumaca abbiamo la cacca di piccione. Wow, presto! Adesso la cerco e vi faccio sapere. Allora, questa palandrana qui l'avevo presa due o tre mesi fa. È gialla e blu, ok? Ed era difficilissima da portare, però siccome qui siamo in primavera posso, cioè non c'entra niente, con un vestito nero perché però, insomma, ecco questa palandrana era servita anche da questo spillone che è carino, ma insomma. E niente, sono così, fa un freddo boia, al solito, però esco. Esco perché sono tre giorni che sono in casa. E quindi, niente, che cos'altro? Faccio vedere? Niente. Faccio vedere. Vado. Ciao. Ah, il trucco? Il trucco era niente di particolare, quei trucchi... Ho fatto un... Ho fatto un... Ho fatto un mi preparo, ma non riesco a trasferirlo, perché... Ci riprovo. Ci riprovo. Cioè, da, da neve. Sono venuta qui al consolato italiano, questa è la hall, ma non per niente per litigare o cose, ma perché devo ritirare le medicine di Allegra, perché il marito della... perché non funziona lifting maintenance, perché il marito della... della mia veterinaria Lavora qui. Sono l'ascensore. Però lui non c'è, adesso è andato a pranzo. Io ho fatto tardi perché piove. Cioè, stanno succedendo tutte. Mi sono accorta di non avere la carta di credito nel borsellino. Stavo andando a... a fare un po' di spesa e per futuro ho trovato la ricevuta dell'ultimo acquisto che ho fatto con la carta di credito. Non si leggeva bene il telefono sulla ricevuta. Mi ha aiutato una commessa del supermercato e ho rintracciato il negozio. Il giorno che sono andata... il primo febbraio che ero lì a... a Taikanlu e ho fatto anche il video, ho preso un regalino per una mia amica e hanno chiamato il negozio e... e hanno la mia carta. Sto mandando a ritirarla, mamma... Troppe eccitazioni questi giorni. Ho appena ritirato le medicine di Allegra, insomma... Allegra a casa. Che storia, mamma mia. Che storia. Per fortuna che esistano ancora persone onestiche. Non lo so, perché stavo pensando già di chiamare il customer service e bloccare la carta. Presa. State gentilissime. Poi ho portato anche dei cioccolatini per ringraziarli, perché, insomma, non è... Tanta onestà non... non c'è... in giro. Dove siamo, Elena? Peninsula. Peninsula. Ed è il tea time, vero? Stiamo aspettando un tavolo per le lady. Perché fa molto freddo. Volevamo fare shopping, ma... Non si può. Non si può, perché i nostri negozi sono ancora chiusi, vero? Sì. Faccio vedere l'ingegnere. Ciao, ingegnere! Ciao. L'ingegnere questa sera... Con il piumino! Col piumino! L'ingegnere questa sera prende il suo aereo per tornare a casa, vero? La prima volta quest'anno ho preso il piumino. Eh, lo so, per questo te l'ha regalato il... Il... come si chiama? Il fidanzato. Il fidanzato. Senti, ingegnere, voli con l'ustanza? No. Business Lounge. Business Lounge. Oh, poverina! Ma voli... vai a Torino o vai a Dusseldorf? Francoforte. Via a Francoforte e poi a Torino. Eh, quindi prima vai a Torino e poi... No, prima è a Francoforte. Sì, 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 no, come volo d'accordo. Sì. Però a Dusseldorf a lavorare... È dopo. Martedì. Martedì. Ah, quindi martedì. Si... posi le valigie in pratica. Poverina. 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 Vida le vacanze. Si inizia a lavorare. Eh. Hai studiato? Hai studiato cosa... quale dei due prendiamo? Allora, io voglio... Allora, prendiamo spring, morrow, afternoon tea. Ok. Ok. Questo è il lemon creme, e questo è il struggerino e il ruffo jam. Ok. E questo è il grano di sconse. Ok. Ok, grazie. Grazie. Grazie mille. Prima di uscire il sloot. Eh, ma non lo sconso. Ma non lo sconso. Ma non lo sconso. Oh, ok. Sì. Eh, eh, eh. Cos'è questo servizio qua? Perché è... Io ho il mio latte. Lo hai... Lo hai... Lo hai... Gliele hai detto in una maniera da lady? No. Che avevano dimenticato il cap, la cap... Ho detto che... In una maniera molto shanghanese. Ah. Ah, gli hai detto la shanghanese? In dialetto shanghanese? Sì. Oh, io. Oh, io. Oh, io. Ah, e qui c'è Allegra, eh. Non se ne sono accorti. Niente, ormai qui veramente come... E' come... E' come... Il... Il peninsula di Hong Kong. Fai la faccia della shanghanese incazzata? Che il servizio non... Le... 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 Chissà com'è che questi pasticcini, scusami ti avvicini, come mai questi pasticcini, lasciamo perdere i capelli, basta tenere una fascia botulinica, allora come mai questi pasticcini sono ancora qua, siamo a dieta? No, perché è tea time, le ladies, piano piano, sì, piano piano, è vero, scusate, mi levo gli occhiani, noi ladies, mi sono fatta un'ammortizzata del freddo due secondi fa, è venuta anche l'ingegnere a fumare una sigaretta fuori, e non lo dobbiamo dire, stavo un po' spettegolando di qualcuno maschio, sempre gossip, sempre gossip, ah e l'ho appena avvisata che la sua diva preferita che è Victoria Bacon, si spalma sul viso la cacca di piccione, sì, dopo la bava di lumaca abbiamo la cacca di piccione, wow, presto, adesso la cerco e vi faccio sapere. Questo è un posto eccezionale veramente, il servizio va bene, il cibo va bene, solo che non si spalma. Ma come si fa? Come si fa? Come si fa dopo che si beve? Qui era compreso lo champagne, ma noi non beviamo, abbiamo preso, io, Elena ingegnera ha preso jasmine tea e io ho preso il mio latte con soya milk, ma dopo c'è, mangi qualche cosa, non ha gusti, fumando una sigaretta, mezza sunnahai, una sigaretta sunnahai, due tirate sunnahai, luna, pietra di luna, perché io vado. Sì. Sì. è proprio freddo la foto? video qui si vede si è piccolina ma ce n'è tanta neve primavera neve primavera la foto? la foto? la foto?